Questo film è una storia molto particolare che invito tutti i giovani a vedere con attenzione perché attraverso il ricordo di una storia si capisce come si fa a costruire il futuro. Sembra paradossale ma riguardare cosa è successo negli ultimi cento anni in questo territorio che era campagna ed è diventata il fulcro dell'innovazione più futuribile che esista, lo spazio, la corsa, l'accesso allo spazio, è straordinario. Vedrete nel film che questo si costruisce passo passo con fatica, con l'operosità di molte persone che si sono sacrificate per questo lavoro ma che hanno anche utilizzato la loro passione come il motore principale per riuscire a creare qualcosa di nuovo che non c'era. Quindi guardatelo con attenzione, ci sono molti ricordi, episodi storici significativi. Penso che sia per i giovani un ottimo spunto soprattutto per trovare l'idea di cosa fare nel futuro. Nuove idee, nuove opportunità che l'economia oggi ci offre e che questo nostro mondo ci dà la possibilità di sviluppare per tutti noi che abbiamo passione.